Nelle acque del Bosforo una bella nave grigio-azzurra fa sventolare la bandiera d'Italia, è l'incrociatore Montecuccoli. Sono i cadetti dell'Accademia Navale di Livorno che ad Istanbul compiono una tappa del loro giro del mondo, istruzione pratica in quello che sarà il loro regno, il mare. L'omaggio al monumento della Repubblica Turca in Piazza del Fahim li avvicinerà di più al popolo che sono venuti a visitare e che, come ogni altro, li riconoscerà per amici più che graditi ospiti. Nei saloni di Palazzo Venetia a Costantinopoli l'ambasciatore d'Italia Pietro Marchi ha offerto un ricevimento. I giovani ufficiali non hanno perso naturalmente troppi valli, con galanteria tutta italiana hanno navigato a gonfie vele. Ma il loro terriplo non ammette soste troppo lunghe, da domani altri mari. Grazie a tutti.